Buonasera amici sportivi alcamesi e nonna qui da Giarre, dal Palà Volcan di Giarre per questa tredicesima e ultima giornata del genone di andata, nonché ultima partita della stagione per la Libertas Alcamo. Al vostro microfono Giuseppe Chimenti al posto del nostro caro Piero Messana che per motivi personali non è potuto essere qui presente. Cercherò di fare il mio meglio per raccontarvi l'incontro che sta per andare a iniziare tra la Palà Volcan di Giarre e la Libertas Alcamo. Allora, prime notizie di questa giornata, come vedrete nell'organico del Giarre è presente il giocatore più talentuoso del Giarre stesso, Arcidiacono, che da qualche giornata per motivi lavorativi ha lasciato la squadra ma per una licenza è qua questa sera e quindi aiuterà il proprio gruppo in questa partita. Mentre dall'altra parte potete vedere la mancanza del nostro grandissimo capitano Dario Andrè che causa un infortunio muscolare di cui l'entità ancora dobbiamo stabilire proprio nell'ultimo allenamento di rifinitura di venerdì sera è venuto a mancare e quindi non è con noi, non è potuto venire neanche in panchina. Detto ciò le due squadre si affrontano con una classifica non bellissima, la Libertas si viene da una vittoria, la Giarre viene da una sconfitta. Per entrambi le due squadre sarà importantissimo questo incontro per cercare di chiudere il meglio possibile l'anno. Comincia l'incontro, la palla 2 tra Lorenzo D'Artamella e il numero 7 Motta, in campo anche il numero 0 Casiraghi, che qui non ho scritto il mio referto. Casiraghi, il numero 22 lo straniero Ulceschi, il numero 20 Saccone e il numero 10 Leonardi. Per la Libertas, Stenalcamo, Tartamella, Dario De Ragnam, Fadalla, Butera e Pari dei Giusti. Palla 2 e inizia l'incontro, vince la palla 2 la Giarre che quindi attacca al primo possesso in attacco. Saccone contro Fadalla, si sviluppa l'attacco della squadra catanese con Casiraghi che prova a tirare, il suo tiro è sbagliato, il rimbalzo da Ratti di Artamella. Apertura per Pari dei Giusti che prova a correre in attacco. Scarica per Dario Dragna, Dario Dragna contro Motta, attacca il ferro Dragna, cerca un arresto dentro l'aria ma il suo tiro è corto. Riparte Giarre in transizione con il numero 20 al ferro direttamente, Saccone per 2 punti, 2 a 0. Riparte il contropiede con Butera che scarica per Dragna, la circolazione arriva giusti, giusti arresto dentro l'aria. Non va sul ferro ma il rimbalzo da Tartamella, ancora Fadalla che va di nuovo in posto basso per Tartamella che prova il tiro, ma è abbastanza corto e fuori misura. E di nuovo Giarre con il numero 20. Abbiamo detto Saccone che attacca il ferro e causa il primo fallo da parte di Fadalla. Molto deciso, Saccone in questo inizio della partita, ha già attaccato il ferro due volte, prendendosi due punti. Grazie a risultato, Casiraghi contro Butera. La palla va a Ucceschi. Intervento difensivo da parte di Fadalla. La deviazione, l'arbitro vede, la deviazione da parte del giocatore alcamese. E quindi rimessa in campo con sette secondi sul cronometro da parte di Giarre. Ancora Casiraghi. Cambio difensivo, è fischiato il fallo a Tartamella. Con un metro di 24, riportato a 14, è nuova rimessa da parte di Saccone. Ucceschi. Quindi la palla a Saccone. Sotto per Casiraghi. Casiraghi contro Butera. Prova a girarsi, attaccare il ferro, ma è rimbalzo di Butera che riesce a fermarlo. E apre per Fadalla. Fadalla per Giusti. Transizione per Tartamella che attacca Ucceschi. Perde un attimo la maniglia, la recupera. La palla va a Fadalla. Fadalla chiama Tartamella per un pick and roll. Attacca il ferro. Scarica per Butera che prova la distanza, ma la palla sul primo ferro. Là fuori. Ancora 2-0 dopo due minuti di gioco. E Giarre ritorna in attacco. 22, Ucceschi. Attacca Tartamella. Il tiro. E viene chiamato fallo. Un po' in ritardo da parte degli arbitri. Ed è subito secondo fallo da parte di Tartamella. Ma non si capisce il perché. Mi è sembrato comunque l'intervento di Tartamella abbastanza al limite. Pulito. Un scivolamento. Chiaramente senza De Andrè con un solo lungo di ruolo. Il fallo di Tartamella è molto pesante. Il primo punto per Ucceschi. Segna pure il secondo. È giuttato il 4-0. Molto pesante sicuramente. Questo mi ha visto il secondo fallo. Non vorrei sbagliarmi. Fatalava al ferro. Viene colpito. Ma non vede niente l'arbitro. E segna due punti. Item Fatalava. Sbloccando il punteggio anche per la Libertas. Casiraghi che in questo momento mi avviso è il centro del gioco. Tutti i palloni passano dalle sue mani. Casiraghi prova a tirare. C'è il rimbalzo lungo. E la deviazione di Dario Dragna. Con la palla che termina fuori. Ancora Casiraghi contro Butera. Palla che va dentro. Ucceschi contro Dario Dragna. Che sbaglia. Il rimbalzo per Valide Giusti. Che attacca il ferro. Poi scarica per Tartamella. Che rimette la palla nelle mani di Giusti. Che riattacca il ferro. Il secondo ferro è il rimbalzo. E quindi riparteggiare. Un po' fredde le mani della Libertas. Da diverse conclusioni. Andate o corte o sul ferro. Ucceschi attacca. Forse commettendo un fallo. Ma c'è il rimbalzo da Butera. Butera parte in contropiede. Vede Giusti. Giusti apre per Fatalà. Che attacca il ferro. Scarica per Dario Dragna. All'angolo la mattonella la mette. Dario Dragna importantissimo. Circolazione in transizione. Tre punti per il Drago. Oggi nelle vesti di Capitano. Cercheremo di capire se sono due falli di Tartamella. O uno solo. Ma a mio avviso dovrebbero essere due. Il primo sul cambio difensivo. E il secondo sulla penetrazione di un Uneceschi. Spero di pronunciarlo giusto. Quindi sei minuti e quarantotré. Al termine del primo quarto. Quattro e cinque. Per la Libertas si è segnato abbastanza poco. Ricordo che nella Libertas questa sera manca il Capitano Dario Andrè. Per un problema muscolare. Qui scontrato venerdì sera al termine dell'allenamento. Mentre nella formazione di Giarre. L'esperto e talentuoso. Il giocatore Arcidiagono. Che per comunicato stampa. Aveva annunciato il ritiro dalla squadra. Per motivi lavorativi. Invece grazie a una licenza è presente questa sera. Anche se ancora non è sceso in campo. Conto dei falli di squadra. 3 a 0. Per quanto riguarda. A favore della Giarre. Quindi tre falli commessi dalla Libertas. Uno da parte di Fatalà. E due da parte di Tartamella. Ripeto. Ho un dubbio sui falli di Tartamella. Verificheremo. Appena sarà possibile. Time out per Giarre. Si riprende in gioco. Quando mancano 6 minuti e 43. E il punteggio è di 4 e 5. Numero 20. Saccone. Porta la palla nell'altra metà campo. La palla arriva a Motta. Il quale la ridà in mano a Saccone. Si cerca un posto basso. Quella palla arriva a Casiraghi che tira da 3 dalla distanza. Il tiro non va. Il rimbalzo di Uceschi che prova a tirare. E riesce a mettere altri due punti. Molto importante. Due punti a rimbalzo. Il tiro sbagliato da parte di Casiraghi. Giusti. Attacca il ferro. Apre per Dragna. Dragna contro Motta. Quella palla arriva a Tartamella. Dalla media. Prova il tiro. È corto. Riparte la transizione con Uceschi. Il pallone arriva a Leonardo. E quindi a Saccone. Saccone apre per Uceschi. Per Leonardo. E quindi Casiraghi che attacca il ferro. Arresta al centro dell'aria. Buterra riesce a contenerlo. Poi si butta indietro. Casiraghi sbaglia. Rimbalzo di Fatalà. E parte la transizione. Apertura per Dario Dragna. Che attacca il ferro. Prova uno scarico. Ma la palla finisce fuori. Un po' bloccato. L'attacco della Libertas. Punteggio di 6-5 per Giarre. Saccone. Per Casiraghi. Casiraghi restituisce la palla a Saccone. Che prova ad attaccare la linea di fondo. Gira tutto il canestro. Si ritrova contro Tartamella nell'accoppiamento. E quindi la palla arriva a Motta. Che tira sbagliando. Il rimbalzo di Tartamella. E transizione. Su condotto da Fatalà. Che apre per Dario Dragna. Che spara un'altra bomba sul secondo ferro. Ma è rimbalzo importantissimo di Fatalà. Per Dario Dragna. Dario Dragna riattacca il ferro. E prende il fallo da parte di Motta. Primo fallo. Per il giocatore di Giarre. C'è un cambio. Va al cambio. Davide Tagliarreni al posto di Tartamella. Situazione falli. 3 a 1. Sul campo Davide Tagliarreni. La rimessa per la libertà. Giusti esce dai blocchi. La linea tira 3. Prende un altro blocco di Dario Dragna. Che si apre su La linea tira 3. Tiro da due punti per Dario Dragna. Il punteggio ancora in equilibrio. 6-7 per la libertà. Sacca per... Saccone riprende il pallone. La palla arriva a Leonardo. Quindi una serie di cambi. Pallone dentro l'aria. Per il numero 22. Uteschi che prova a tirare. L'arbitro fischia. Infrazione di passi da parte del centro. Straniero di Giarre. Buona difesa. Si era chiusa all'interno dell'aria. Per evitare un tiro. Il centro. Uteschi non è riuscito a concludere. Fa da là. Porta la palla dall'altra parte. Va da Dario. Da Davide Dragliarreni. Che ribalta per Butera. Che attacca il ferro. Si butta dentro. Al tabellone. Due punti per Carlo Butera. 6-9 il punteggio. Saccone. Per Leonardo. Quindi Uteschi. L'uscita di Saccone. Che prova a attaccare il ferro. Tiro dalla distanza. Tre punti non va. E parte la transizione. Con Fatalà. Che attacca il ferro. Contro Neceschi. A fuori dal tabellone. L'arbitro non vede niente. Contro transizione. La parte di Giarre. Con Saccone. Prova a tirare. Ma Dario Dragna. Lo ferma. E quindi ancora. Campo aperto. Libertas. Dario Dragna. Da tre punti. Sulla transizione. Sulla transizione. Alla tabella. E la bomba. Di Dario Dragna. Comincia a riscaldarsi le mani. Dell'ala. Dirige palermitana. Che gioca ad Alcamo. Questa la sua seconda stagione. Quindi. Uteschi. Prova il tiro. Contro Davide Tagliareni. Poi ci ripensa. La palla nelle mani di Leonardo. Se aspetta. Motta per un pick and roll. Arresto dentro l'aria. E due punti. Per Leonardi. Giusti. Giusti. Giusti per Butera. Quindi Butera. Attacca il ferro. Scarico per Fatalà. Prova il tiro a distanza. Fatalà. Sul secondo ferro. Non va. Rimbalzo per Leonardi. E Sattone. Riporta. La propria squadra. In attacco. Quindi per Casiraghi. Casiraghi per Oneceschi. Che prova il tiro da tre. Sul ferro. Non va. Rimbalzo di Giusti. Che parte in transizione. Si arresta. Dalla media. E sono due punti per Pari dei Giusti. Che segna. Canestro e Porta. La Libertas. Sul 14 a 8. Saccone. Per Oneceschi. Fa da là su Saccone. C'è Casiraghi che esce. Finta. Fa volare. Carlo Butera. Poi tira. E sbaglia. L'appoggio. La palla ancora non ha toccato il ferro. Non aveva toccato il ferro. Ma sono stati rimessi a 14. Ma c'è il contropiede. Con Butera. Che attacca Casiraghi. Al ferro e va due punti. Di Carlo Butera. L'importante. Due punti di Carlo Butera. Un peggio sul 16 a 8. Secondo me. La palla non aveva toccato il ferro. Ma il tavolo. Aveva riportato a 24. Salvo poi rimettere subito a 14. Per cercare di recuperare. Oneceschi attacca. Davide Tagliarreni. Un po' in ritardo. Subisce il fallo. Oneceschi. E segna due punti. Importanti. Davide. Primo fallo. Tagliarreni. Intanto c'è il cambio. Esce Fatalà. E entra. Jacopo Bruno. E dall'altra parte entra il numero 9. Ciaorella. Al posto del numero 20. Saccone. In lunetta. Moneceschi. Ah è entrato anche il numero 11. Arcidiacono. Va a segno il tiro libero. E quindi punteggio di 16 a 11. Più 5 per la Libertas. Bruno. Chiude il palleggio. Si ritrova. Sessione emergenza. Poi alla fine trova parete giusti. Parete giusti per Dario Dragna. Il posto basso contro Arcidiacono. Scarico fuori per Butera. Tiro da 3 di Carlo Butera. Sul secondo ferro anche questo. E la palla. È fuori. È palla blu. La buttata da Arcidiacono. Ha avuto qualche tentennamento l'arbitro. scusatemi non mi sono segnato il nome dei due fischietti. Quindi non vi potrò dire qual è il nome della coppia arbitrale. e prova la palla dentro. Tagliare di tocco ma viene intercettata. e riparte con Ciaurella. E riparte con Ciaurella Giarre. Bruno contro Ciaurella. Casiraghi contro Butera. La palla consegnata a Ciaurella. Sul cambio difensivo. Dentro per Casiraghi. E sono due punti. Per il numero zero. I primi due punti della partita. di Bruno. Cercato. Tagliare di dall'arco. Sul primo ferro. Non va. Molte conclusioni da tre. O corte o lunghe. In questo primo quarto. E ancora Ciaurella. Cerca. Uniceschi sul posto basso. Gira sul perno. Un paio di volte. E poi viene fischiato il fallo. a Butera. Situazione già di bonus. Per quanto riguarda la libertà. Se è sospensionale di chiamata. Coach Ferrara. 4 a 1 i falli. 5 a 1 i falli. Anzi. Per essere più precisi. 2, 3, 4, 5. A 1 i falli. A favore della squadra di casa. I due fischietti. Sembrano due ragazzi molto giusti. giovani. Sicuramente. Giarre ha attaccato di più il ferro. Rispetto alla libertà. 40 secondi al termine. Il primo quarto. Il punteggio di 16, 3. Era andata anche 16 a 9. Se non erro. 16 a 8. Se non erro. E' stato un contropartiale. 5 a 0. Da parte di Giarre. e si riparte dopo la sospensione chiamata da Coach Ferrara. Entra in campo nel frattempo Ciccio Genovese al posto del numero 15, Carlo Butera. Si ritorna in lunetta per due tiri liberi scaturiti dal bonus per Uno e Ceschi. Primo tiro libero a segno. Secondo tiro libero. Ancesto a segno. 9 punti per Uno e Ceschi. Bruno anticipato. Dario Dragna. Si trova alla sponda con pare di Giusti che attacca il ferro. Salta gli avversari. Prova a scaricare dentro per Dragna. Che sbaglia la conclusione. Uno e Ceschi. Prende il rimbalzo. Le apre per Ciaurella. Bruno viene spinto da Casiraghi. Quindi Uno e Ceschi contro Dario Dragna. Arresto e tiro. Dalla media non va. Rimbalzo lungo. E fallo fischiato a Jacopo Bruno. Non si capisce per quale motivo. Fallo fischiato a Jacopo Bruno. Bonus e due tiri liberi regalati. Due tiri liberi regalati a Giarra. Conte dei falli in questo momento è di 7 a 1. Va accorto il primo tiro libero per Casiraghi. Contenza di 15-16 intanto. Giarra ha riuscito il primo break che aveva imposto. Di Betas. La segno Casiraghi con il suo secondo tiro libero. E punteggio in parità quando mancano 6 secondi al termine. Pala per Giusti. Giusti guarda il cronometro. Si ferma. Arresto. Tiro scarico per Dragna. E pala sul secondo ferro. Si chiude così il primo quarto col punteggio di 16 pari. Ci risentiamo tra poco per il secondo quarto. Di nuovo qui in diretta da Giarra per il secondo quarto di questa tredicesima ultima giornata di andata. Al microfono per voi Giuseppe Chimenti al posto di Piero Messana. Per motivi personali non è presente. Lo salutiamo. Buone feste. Anche a lui e a tutti gli appassionati di basket che ci seguono. Soprattutto i nostri tifosi alca mesi. Allora. Primo quarto che ha visto la Libertas condurre per molto tempo. Poi nel momento in cui la Libertas aveva raggiunto un vantaggio di ben otto lunghezze. Giarre ha ricuscito anche grazie a una serie di tiri liberi dovuti a una sequenza di falli commessi dalle maglie blu di coach Ferrara. Ricordiamo anche mentre Giarre perde questo pallone. Ricordiamo anche che Staliberta si è privo del capitano Dario Andrè che nell'ultima seduta di allenamento di venerdì sera ha purtroppo riscontrato un problema muscolare di cui ancora non sappiamo l'entità ma che non gli ha permesso di poter scendere in campo. Dall'altra parte invece è in campo il talentuoso giocatore di Giarrese Arci Diagono che era assente che aveva dichiarato il suo ritiro per motivi lavorativi ma grazie a un permesso è qui stasera presente. È in campo. E allora tiro sbagliato a Ciccio Genovese e Giarre in un attacco con il numero 10 Leonardo per il 13 non è entrato Costanzo. Costanzo si arresta e ridà la palla a Leonardo che prova ad attaccare il ferro una spinta non vista dagli arbitri. Taglia fuori di Tagliarreni e rimbalzo di Jacopo Bruno. Bruno prova a spingere la transizione. Vede parete giusti. Parete giusti. Arresto tiro da tre. Non va sul secondo ferro e rimbalzo di Tagliarreni. L'arbitro da centrocampo fischia un fallo sotto le plance a Davide Tagliarreni per una presenta spinta a rimbalzo. Quando l'arbitro sotto canestro lì a 20 centimetri non vede. Condizione falli 8 a 9 a 1 Tagliarreni. Secondo fallo di Tagliarreni intanto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forse me ne sono perso qualcuno. L'ha rimessa in campo. Esce il frattempo Dario Dragna e rientra Lorenzo Tattamella. Palla per Runeceschi che prova il tiro alla media. Metto a segno due punti. Che portano in vantaggio a Giarre. 18-16. Genovese per Bruno. Bruno per Tagliarreni. Tagliarreni apre per Ciccio Genovese. Dà la palla dentro. L'ha storpata di Arcitiacono. Davide Tagliarreni. E la transizione offensiva da parte di Giarre. Uniteschi ti butta dentro. Scarica. Ha due punti per il numero 20. Saccone. Bruno per Tagliarreni che prova dalla distanza. Secondo ferro non va. Rimbalzo lungo di Tattamella. Bruno si prende il pallone. Attacca il ferro e appoggia. Due punti importantissimi in questo momento. Per la Libertas. 20-18. Sblocca il tabellone per la Libertas. Va dentro. Saccone appoggia il ferro. E sono altri due punti. Non riusciamo a contenere le entrate dal playmaker. Giarrese. Genovese. Genovese attacca il ferro. Arresto dentro l'aria. Arbitri non vedono niente. Nessun contatto da questa parte. Solo i contatti dall'altra parte. Saccone. Per Leonardo. Leonardo dietro per Arcidiacono. Che tenta il tiro. Sbagliato. Imbalzo di giusti capri e contropiede. Genovese per Genovese. Si arresta sulla linea del tiro da tre per Tagliareni. La palla ritorna a Bruno. La consegna Genovese. Genovese aspetta Tartamella. Ancora. Altro pick and roll. Tiro. Stoppato il tiro di Genovese. L'arbitro fischia il ritardo. Il fallo di Genovese. Genovese ha tenuto un po' troppo la palla in mano. In questa occasione. Esce giusti. 22-18. Intanto il parziale rientra. Butera. Doppio cambio anche nelle file di Giarre. Ad uscire il numero 22. Oneceschi. Per il numero 7. Motta. E il numero 10. Leonardo per il numero 0. Casiraghi. Dobbiamo registrare un partito di 14-2 negli ultimi 4 minuti. Scarsi. A favore di Giarre. Palla dentro per Motta. Su questo pick and roll. Che appoggia altri due punti. Tutto facile per Giarre. Uno supera il centrocampo. Palla per Genovese. Genovese chiama Tartamella. Su pick and roll. Prova a attaccare il ferro. Arriva il fisco dell'arbitro. E il canestro. Buono. Per Ciccio Genovese. Due punti per Ciccio Genovese. E il fallo fischiato al numero 13. Costanzo. Allora. In questo momento. Al mio tabellino. Questo è il secondo fallo complessivo di squadra. in tutta la partita. In 14 minuti. Da parte di Giarre. Genovese al tiro libero. A segno. Ricuce un attimino lo strappo. 24-21 per la Libertas. Sacca al tabellone. Saccone al tabellone. Altri due punti. Le penetrazioni del piccolo plemaker. Giarrese stanno facendo sanguinare la difesa della Libertas. Sartamella ora per Genovese. Genovese ha molti metri di spazio. Non ne approfitta. Va da Butera. Marcato da Casiraghi. Butera arriva sotto il canestro. Si arresta. Appoggia il ferro. Non va. E c'è rimbalzo di Tagliarreni. Importantissimo. Tenuto da una mano. Non visto dall'arbitro. E poi alla fine c'è il fischio. E due tiri liberi. Fallo di motta. E due tiri liberi per Davide Tagliarreni. Secondo fallo di motta. Sì. Mi risulta. Esce Jacopo Bruno. Rientra Fatalà. Due tiri liberi per Tagliarreni. Primo tiro libero. Tagliarreni. Sul primo ferro e poi va a lungo. 26-21. Il punteggio. Meno 5 per la ribeccas. Secondo tiro libero per Tagliarreni. Assegno. Primo punto della partita per Davide. Tagliarreni. Ritorno in attacco giarre. Bisogna fermare l'attacco giarrese. Palla sotto Arcidiacono. Arcidiacono vede. Casiraghi dal lato opposto. E la bomba. È il numero zero. 29-22 per Giarra il punteggio. Fatalà. Scarico per Genovese. Dall'angolo. Prova la bomba da tre. Sono tre punti per Ciccio Genovese. 29-25. Bisogna fermare l'attacco della squadra catanese. Va dentro. Scarico. Ci diacono dall'angolo. Il tiro a tre non va. Rimbalzo di Genovese. Apertura per Butera. Che prova a correre. Prova ad attaccare il ferro. Butera scarica per Fatalà. Fatalà spezza il proprio lungo. Tartamella che tira dalla media. Lorenzo e Tartamella. Due punti. Per Tartamella. I primi due punti anche lui per la partita. 29-27. Tiro da tre. E' la bomba in faccia di Casiraghi. Che è un giocatore di striscia. Che si accende. Può fare molto male. 32-27. Ancora meno cinque per la Libertas. Fatalà conduce alla transizione. Tagliareni per Butera. Butera. Si ferma. Non vede le uscite. Il Genovese poi esce i blocchi. Il tiro sul primo ferro. Lungo e riparte in transizione. Saccone. Si chiude la difesa. E' lo scarico dietro la schiena di Saccone. Deviazione. Palla ancora. Il Giarre. Ma arriva un'altra sospensione. Per Coach Ferrara. La seconda sospensione. A tre minuti e 47 al termine del primo quarto. 32-27. 32-27. Quando mancano tre minuti e 47 l'intervallo. Le penetrazioni prima di Saccone in transizione al ferro. e poi i canestri da tre di Casiraghi hanno permesso a Giarre di segnare con continuità e di tenere a cinque punti di distanza. La Libertas. Oltre alla differenza di falli finora, ben nove falli a tre a favore di Giarre. La Libertas è andata solo due volte in lunetta contro cinque volte in lunetta da parte dell'altra squadra. Si riprende dopo la sospensione di Coach Ferrara. Abbatte la rimessa e Saccone. Casiraghi per Motta. Riesce Saccone dall'angolo. tira da tre in faccia a Fatalà e un tiro cortissimo al rimbalzo preso da Genovese che apre per Tagliarreni. Tagliarreni attacca il centro dell'aria, poi apre per Fatalà. La palla va sotto per Tartamella. Tartamella gioca contro Contro Arcidiacono e con un movimento sul piede perno riesce a mettere due punti al tabellone che riportano a meno tre la Libertas. 32-29. Arcidiacono. numero 13, Costanzo. Costanzo. Tiro da tre. Sul secondo ferro non va. Rimbalzo di Tagliarreni che apre per Genovese. Genovese per Fatalà. Transizione offensiva. Gioca il blocco con Tartamella, poi Tagliarreni attacca il ferro e va a mettere due punti col fallo importanti per Tagliarreni ed è anche il terzo fallo da parte di Motta. Vediamo se conferma il tavolo del terzo fallo. Si conferma. Infatti va a sedersi. Motta rientra. c'è un ecesti. Il lungo straniero di Giarre. Si siede anche il sito Genovese. Rientra in campo Dario Dragna. 32-31. La Libertas ha ricucito questi cinque punti. C'è un tiro libero addizionale per Davide Tagliarreni. Va a lungo ma al rimbalzo c'è Tartamella che arriva per Tagliarreni. La bomba da tre. Lunga ancora. Non riesce la Libertas ad approfittare del rimbalzo sul tiro libero. e quindi Saccone. Saccone trova Costanzo. Costanzo cerca Casiraghi. Passo sul botto di Oneceschi. Butera rimane con lui. Oneceschi è libero. Non arriva nessuno sul cambio. E mette a segno tre punti. Quindi Tagliarreni attacca Oneceschi. Si ferma dentro l'aria. Scarica per Dario Dragna. Quindi Tartamella. Tartamella attacca il ferro. Ma non arriva la conclusione. L'apertura di Arsidiacono. Per il sopramaker. È fuori. Palla recuperata. Per fortuna. Ricazzati a meno quattro i giocatori alcamesi. Rimessa per la Libertas. Affidata a Carlo Butera. Carlo Butera apre per Aitane. Fatalà. Fatalà attacca il ferro. Arriva al ferro. E mette due punti. Fatalà. Importanti. E meno due. 35-33. Due minuti dal termine. Saccone. Per Arsidiacono. Arsidiacono. Cerca Casiraghi. Ma l'intervento. Fri Butera. Fondamentale in difesa. Che poi sbaglia l'appoggio. Da solo. Quindi Giara ne approfitta. E viene fischiato il fallo. A Tartamella. Vediamo che fallo è di Tartamella. Se mi ero sbagliato. E non mi ero sbagliato. Il terzo fallo per Lorenzo Tartamella. Grande peccato. Un'azione che poteva portare in parità alle squadre. Un'ottima azione difensiva. Da parte di Butera. Che nello spingere la palla aveva avuto un controllo difettoso. Forse questo ha condizionato poi la conclusione. E dall'altra parte Saccone ne ha approfittato attaccando il ferro in superiore da numerica. Da lì è arrivato il fallo di Tartamella che voleva proteggere il ferro con i suoi centimetri. Comunque Saccone sbaglia il primo tiro libero. Segna il secondo. E porta di nuovo a più 3. 36-33. In attacco la Libertas. Fa da là per Tagliareni. Per Butera. Butera gira a largo della palla. Arriva Giusti. Giusti. Trova Dario Teragna. Dario Teragna contro... Dario Teragna appoggia... Passa il pallone sotto misura a Davide Tagliareni che sbaglia la conclusione del tabellone. Quindi... Saccone ancora al ferro. Il suo tiro sbagliato. Il rimbalzo. Il suo diagono sbagliato. Il tiro. E poi non riusciamo a capire come viene persa questa palla da parte di Tagliareni. Un'altra palla sanguinosa persa. Speriamo che non produca punti e Giarre resta in attacco. Era fondamentale. Trova finta e finta di Casiraghi che poi passa sul blocco. Il tiro. Il rimbalzo. La palla che vaga. Fa da là. Riesce a recuperarla. Prendo per pari dei giusti. Pari dei giusti. Vede arrivare Dario Teragna. perde la maniglia. La palla presa da Leonardo che attacca il ferro. Al ferro. Tiro. Conclusione. Che si appoggia dolcemente. E sono due punti che portano di nuovo a più cinque. Peccato Libertas. due o tre volte è stata lì lì per andare a riprendere Giarre. ora. Fatalà dalla distanza non va secondo ferro. 15 secondi al termine. 15 secondi al termine. 10 secondi. Termine del quarto. Picca e rollo. Fatalà rimane. Per Fatalà è il secondo fallo. Potevamo spiegare un fallo. Non eravamo ancora sul bonus. Ma ci sono sei secondi e la rimessa per la squadra catanese. Sul punteggio di 38-33. Casiraghi passa su un blocco di Neceschi. Butera cerca di chiuderlo. E la conclusione. Fuori. Misura. Sottomisura. E quindi termina questo secondo quarto col punteggio di 38-33. Peccato. Diverse conclusioni. Sono andate corte ma soprattutto hanno pesato le varie palle perse. Che non hanno permesso alla Libertas di attaccare e di andare a concludere. Ci risentiamo per il secondo, per il terzo periodo. E siamo di nuovo qua pronti da Giarre per il terzo periodo. Parziale 38-33 a favore di Giarre. Parziale che è nato sul finire del primo quarto quando la Libertas era sul più otto. E ha preso un parziale da più otto a meno cinque. e poi di lì la Libertas almeno tre volte ha cercato di rientrare riportandosi anche a un punto con palla in mano. Ma le palle perse sanguinose hanno causato poi un break che ha concesso a Giarre di contenere questo più cinque. Giarre in attacco. La palla per Casiraghi. Quindi per Saccone. Saccone per Uniceschi. Uniceschi va nelle mani di Leonardo. Leonardo aspetta lo sviluppo dei movimenti dei compagni. Ritornano da Uniceschi che attacca il ferro contro Dragna. Il tiro corto e il rimbalzo di Dario Dragna. Fadalla spinge la transizione nell'altra metà campo per pari dei giusti. Quindi pari dei giusti vede arrivare Carlo Butera che apre per Dario Dragna che prova la bomba dalla distanza. Non va. Il rimbalzo di Uniceschi. E di nuovo Giarre in attacco. Casiraghi. Casiraghi per Uniceschi. Uniceschi ritrova Saccone. Saccone marcato da Fadalla. Ridà la palla a Uniceschi che prova il tiro da tre sul secondo ferro. Ma il rimbalzo è suo. E sono due punti appoggiati per il mancato. Taglia fuori. Uniceschi che aveva segnato già 14 punti. Ora 16. Artamella apre per Butera che gira a largo del ferro e trova poi Giusti. Giusti. Prova a attaccare il ferro. Dario Dragna fa saltare. Accidiacono poi andando dentro trova Uniceschi che lo stoppa. 5 secondi per concludere. Rimesso dal fondo per Fadalla. 6 secondi. Anzi non 5. La palla per Parigi Giusti che va dentro e di spalla viene toccato duro da Casiraghi. Primo fallo di Casiraghi. E 14 secondi per la rimessa di Parigi Giusti. Fadalla. Fadalla. Prova il tiro da tre. che va a segno. Tre punti importanti per item Fadalla. Saccone per Uniceschi. Uniceschi cerca. Leonardo. Leonardo. Leonardo scarica per l'Arcidiacono che apre per Uniceschi che prova il tiro. Non va sul secondo ferro. Il rimbalzo controllato da Fadalla che apre per Butera che prova ad andare al ferro. Appoggia. Importanti due punti al ferro per Butera. E' il punteggio che va su 40-38. Meno due. 8 minuti al termine del terzo periodo. Arcidiacono. Arcidiacono. C'è il blocco sotto per Uniceschi. Saccone vede arrivare Casiraghi in punta. Gli serve il pallone. L'arbitro fischia in frazione di passi da parte di Casiraghi. E' rimessa per la Libertas. che proverà a ritornare in attacco sul punteggio di 40-38 per Giarre. Giusti. 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 Attacca il ferro. Giusti scarica per Fadalla. Finta. Finta. Poi alla fine prende il tiro. La mette. E punti di item Fadalla che costringono Giarre al time out. E' il punteggio che va sul 41-40. primo sorpasso dalla fine del primo periodo da parte della Libertas che ha piazzato questo parziale di 6 a 2 se non sbaglio. Sì. 7 a 2. 8 a 2. Quindi punteggio di 40-41. Sospensione per la panchina di Giarre. Libertas che è ritornata in vantaggio di un punto. Deve continuare a mettere questa intensità in difesa. Recuperare i palloni. Non perdere la palla in malo modo senza neanche provare ad attaccare. e cercare di contenere in lungo un eccessi autore finale di 16 punti. Oltre ai due Saccone e Casiraghi entrambi a 9 punti. Ritorna in campo il quintetto della Libertas con Fatalà, Giusti, Butera, Dragna e Tartamella. Ricordiamo l'assenza del capitano De Andrè per infortunio. E ora c'è Leonardo. Esce la palla per Casiraghi che tira da 3 punti e mezzo a segno. Una importante bomba. Contro sopparso da parte di Giarre. Giusti. Giusti. Attacca di nuovo il ferro. Scarica per Fatalà dall'angolo. Un'altra bomba per Aiken Fatalà. Su quest'asse tutto. Giusti. Fatalà. Forte in pedo con la Caltanissetta. E quindi Casiraghi esce una serie di blocchi. Prova il tiro. Salta Butera. Prova a attaccare il ferro. Ma va a lungo. Fatalà parte in contropiede. Butera apre per Tartamella che prova ad appoggiare al volo. E c'è poi il fallo di Dario Dragna per il Drago. Il primo fallo. Se non vado errato. Chi è? Il primo fallo. Peccato la transizione. Magari con un po' di pazienza senza provare il tiro al volo avremmo potuto mettere lo stesso due punti al retretto. Punteggio 43-44. Partita in completo equilibrio. Ritorna in attacco Giarre con Saccone. Saccone aspetta l'uscita di... E inflazione di passi. L'uscita di Leonardo stavo dicendo. E nella partenza fa inflazione di passi. E quindi palla recuperata da parte della Libertas. Fatalà. Fatalà attacca. La palla va per Tartamella. Tartamella gira per Butera. Butera affrontato dal cambio difensivo. Da Unecesti e il tocco fuori. Non riesce a trattenere la palla. Pallone che va fuori. Saccone ritorna in attacco per Giarre. Casiraghi. Casiraghi per Saccone. Saccone cerca. Arcidiacono che prova ad appoggiare. Lo riesce a resistere. Poi perde la maniglia. Arcidiacono. La palla aperta per Giusti. Terrida. Fatalà e appoggia due punti importanti. Al tabellone. Quando la Libertas può correre in contropiede diventa pericolosissima. Per correre in contropiede occorre la difesa. Ottima la difesa nella sessione precedente da parte di Tartamella. La palla dentro Unecesti. Il Drago cerca a contrastarlo. Ma Unecesti gira sul piede perno e mette altri due punti. Al referto. Punteggio 45-46. E Libertas si in attacco con Fatalà. Fatalà cerca Dario Dragna. Dario Dragna apre per Putera. Che attacca il ferro. Ma la conclusione va a lunga. E Giarre può provare a controsorpassare la squadra alcamese. Riesce a resistere alla penetrazione. Poi c'è il tiro di Arcidiacono che va sul ferro. Rimbalzo di Unecesti. Ma Giusti tocca per un attimo. Poi Unecesti riprende il pallone. Si gira. E viene fischiato il fallo a Dario Dragna. Secondo fallo di Dario Dragna sul ferro. Forse c'era anche un'inflazione di passi da parte di Unecesti. Ma sono due tiri liberi. Secondo fallo di Dario Dragna. E quindi torna la lunetta. Peccato Giusti. Aveva intercettato il pallone. Ma non era riuscito a trattenerlo. Poi fortunatamente questo è ritornato nelle mani del lungo straniero. Va lungo il primo tiro libero. Quattro minuti e cinquantasette al termine del terzo periodo. Unecesti della lunetta apposta. Qua il secondo. Punteggio che ritorna in parità. Quarantasei pari. Quarantasei pari. Attacca la Libertas. Cambia difesa. La squadra di Ciarre passa a zona. La barra arriva dentro. Fatalà nell'angolo per Butera. Butera da due punti. Non va. Il rimbalzo di Unecesti. Riparte Ciarre. Prima vittoria nel cambio difensivo. Alla lunga per Arcidiacono. Che si arresta. Prova a girare. Trova sotto il ferro. E. E. Fallo. Ma non sappiamo per quale motivo questo fallo fischiato. Assolutamente. Fallo di Fatalà. Terzo fallo per Fatalà. Vediamo. Esce Arcidiacono. Si vede diverse settimane che non gioca. Ha perso un po' di condizione. Motta. Un tre falli. Ritorno in campo. Punteggio su 46 pari. E. Di nuovo. Dalla lunetta. Giarre. Non va il primo tiro libero. Per Saccone. Anche nel primo quarto. Nel primo tempo. Giarre. Era riuscito a costruire. Il suo parziale. Ah. Rimbalzo. Sul secondo tiro libero. Di Unecesti. Importante non concedere. Queste seconde occasioni. Iker Roll. Ma riesce a recuperare giusti. E prova a ripartire la Ribettas. Dario Dragna. Fa volare Casirachi. Prova la bomba. Non va. Rimbalzo di Dattamella. La palla toccata. Da parte di Unecesti. Bisogna fare molta attenzione. Sui tiri liberi. Sui rimbalzi. Le palle perse. Fanno la differenza in questa partita. Punto a punto. Fatalà. Per Butera. Riape per Fatalà. Che attacca il ferro. Carica per Giusti. Giusti trova. Dattamella. Quindi la circolazione di palla. Che ritorna su Fatalà. Che attacca il ferro. Ribaltamento. Allo scadere. 24. Passate una serie di conclusioni. Passate una serie di conclusioni. Che hanno portato. Allo scadere di 24 secondi. Quindi seconda vittoria difensiva. Per la difesa. 3-2 da parte di Giarre. Cuneceschi. Mette la palla per terra. Quindi trova Motta. Marcato. Ma gli ruba la palla Giusti. Che attacca il ferro. E tira sbaglia. Ma segua rimbalzo Putera. Che riesce a segnare. Due punti importanti. Più due Libertas. Saccone. Per Vital. Saccone ancora. Casiraghi. Esce fuori Neceschi. Solo da 3 punti. E mette un altro tiro. Importante per lui. Quota 22. Raggiunta. Imarcabile. Putera. Prova Giusti dall'angolo. Giusti. Prova la conclusione. Sul secondo ferro. Non va. Uno Eceschi. Altro rimbalzo. 49-48. Ritornata in vantaggio. Giarre. La palla. Giusti ruba la palla. E va al ferro stavolta. Non sbaglia la conclusione. E sono due punti per Giusti. Saccone. Attacca il ferro. Trova uno scarico. Per Leonardo. Leonardo prova ad andare al ferro. Tira. È la sua conclusione. Con altri due punti. Tabellone. 51-50. Le due squadre si scambiano. Continualmente. Questi punti. Sartamella prova a girare. Va corto. Puoi riprendere il rimbalzo. Subisce fallo da Uno Eceschi. Per il lungo straniero. Il primo fallo. E andrà in lunetta. Tartamella. Entra Tagliareni al posto di Butera. Due liberi per Tartamella. Sul fungetto di 51-50. Quando mancano. Quando mancano due minuti e diciannove. Non sono due tiri liberi. Ma stava tirando Tartamella. Sarà semplice rimessa. Dragna. Trova Tartamella. Di nuovo nell'angolo per Dragna. Il tiro dall'angolo non va. Quando Alla ci mette le mani. La palla però viene recuperata da Giusti. Ancora Giusti dalla distanza. Non va il suo tiro. E il rimbalzo questa volta è di Tartamella. Colpito. Arciliacono nel frattempo è rientrato. C'è un cambio. Esce Tartamella. Che ha tre falli. Ed entra il giovane Luca Odino. Per questi due minuti. Saccone. Saccone da solo. Dalla distanza. Tiro corto. Giusti recupera la palla. Trova a spingere la transizione. Trova a Fatalà. Fatalà cerca. Ah Dario Dragna. Dario Dragna attacca il ferro. Ma viene respinto. Con la stoppata. E quindi. Leonardo. Dall'altra parte. In transizione. Scarico. Per Saccone. Saccone. Non tira. E dà a Leonardo. Leonardo che invece tira dall'angolo. E mette tre punti. Per Leonardo che costringono. Soccio Ferrara. La sospensione. E il punteggio. Che vede di nuovo. Giarre. Ritornare. A più quattro. E quindi. A ricucire. Quel vantaggio. Di due possessi. Con cui. Aveva chiuso. Il primo quarto. Nonostante. La Libertas. Abbia fatto. E disfatto. Tutto. In questo. Terzo periodo. Ricuciendo. Prima cinque punti. Svantaggio. Andando sopra. Di una. Andando sopra. Di tre. E ogni volta. Giarre. Riuscita. A rientrare. Con. Uneceschi. Che ha segnato. Al momento. 22 punti. E in questo quarto. Ha segnato. 8 punti. Fondamentale. Per la Libertas. Non mollare. Continuare. A difendere. Recuperare. I palloni. E partire. In transizione. Arma. Letale. Per. Questa squadra. Altro cambio. Per la Libertas. Rientra sul campo. Ciccio Genovese. Al posto. Di pari dei giusti. 1 e 22. La conclusione. In campo per la Libertas. Fatalà. Dario Dragna. Davide Tagliarreni. Luca Odino. E Ciccio Genovese. Dall'altra parte. Leonardo. Saccone. Saccone. Casiraghi. Motta. E Arcidiacone. Audino. Genovese. Genovese per Audino. Per Dario Dragna. Fatalà. Trova a toccare il centro. Ape per Audino. Audino. Un attimo di. Di paura. Poi la palla arriva. A Dario Dragna. Ma il tiro. È lungo. E non va. La difesa. Zona. Sta mettendo in grosse difficoltà. Libertas. Un po' di tempo. Che non segna. Su. Azione. Di Saccone. Casiraghi. Contro Tagliarreni. Prova ad attaccare il ferro. Sul piccherolo. La palla. Ammotta che sbaglia. Il rimbalzo di Tagliarreni. Fatalà. Trova a spinge la transizione. Per Dario Dragna. Dario Dragna. Dario Dragna vede arrivare. Audino. Che scarica. Di Genovese. Genovese. Trova Dragna. Che prova ad andare al ferro. È respinto. Con un'altra soppata. Dalla parte di. Accidiacono. La palla a Saccone. Saccone. Gira sotto il ferro. Dacca Siraghi. Che attacca la rete. Arriva il ferro. Mettendo a segno. Due punti. Che riportano. A più 6. Giarre. Peccato. In questo quarto. Badallata. Distanza siderale. Secondo ferro. Tocca la palla. Dragna. E chiude così. Il terzo periodo. Con Giarre. Che ha resistito. Al rientro. Della. Libertas. Per poi. Piazzare. L'affondo finale. Negli ultimi due minuti. E portarsi. A più 6. Quarto periodo. Per la Libertas. Si riparte. In campo. Genovese. Bruno. Audino. Startamella. E Tagliareni. Continua difesa. A zona. Da parte del. Giarre. Bruno. Per Genovese. Ancora Bruno. Audino. Ribalta. Difesa a zona. Che sta mettendo in serie. Di Filoltama. Lorenzo. Cartamella. Trova. Tre punti. Al centro. Importantissimi. Meno tre per la Libertas. Arcidiacono. Casiraghi. Casiraghi. Passa sul blocco. Arreste. Tiro. E fischiato. Fallo. Da parte di. Tagliareni. Due tiri liberi. Senza fatica. Andrà in lunetta. Giarre. Primo tiro libero. A segno. 57-53. Secondo tiro libero. Assegno. Entra Butera. Per Audino. Bruno. Bruno. Per Butera. Butera. Per Tartamella. che perde un attimo la palla. La palla va per Tagliareni. Che passa sotto il ferro. Sbagliando la conclusione. Saccone. Saccone per Leonardo. Saccone. Leonardo per Arcidiacono. Arcidiacono. Attacca. Tartamella. Sbagliando. Bruno tocca il rimbalzo. Arcidiacono. Si recupera la palla. E poi viene fischiato il fallo a Bruno. Bruno. Vanno di Bruno. ora 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 ora. 58-53. 5 punti di vantaggio per Giarra. 8 minuti e 55 al termine. Casirachi esce del blotti. Arresto. E tiro. E due punti per Casirachi. Massimo vantaggio per Giarra. E più 7. Cartamella. Prova ad andare dentro. Non va. Rimbalzo di Tagliareni. Che appoggia due punti al tabellone. Meno 5. 6-8 minuti e 28 al termine. Motta. Per Saccone. Saccone. C'è il blocco per Arcidiacono. Saccone. Ha spazio. Tira e mette la bomba da 3. 63-55. Genovese nell'angolo. Non va. La palla torna a Bruno. E quindi Tagliareni dalla media. Prova. E non va. Secondo ferro. Ma il ribalzo di Bruno. Bruno. Prova ad attaccare il ferro. Arcidiacono. Ci mette una mano. Saccone. Arriva il ferro. Tira. Ma segue Arcidiacono. che subisce il fallo di Tagliareni. Arcidiacono fondamentale in difesa e in attacco. e più 10. Massimo vantaggio per la libertà. C'è una mano. Francesca, che subisce il dropdown. È un'inano di inattacco. Mità conciutto. Ma segue I. E' una mano. Quai. 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 Grazie a tutti Triplo cambio per coach Ferrara Rientrano Fatala Giusti E Dario Dragna 7 minuti e 43 Per cercare di rientrare in questa partita E la Libertas negli ultimi 4 minuti Ha visto Sivolare via Il cambio di difesa difensivo di Giarre Ha messo in seria difficoltà La squadra di coach Ferrara Artidiacono segna un altro punto E va a sedersi in panchina Rientro di unecetti Certo questa stagione non si può definire Delle più fortunate Visto la penuria di infortuni Ma anche le casualità Butera dalla distanza Secondo ferro E non va Saccone Oniceschi trova Casiraghi Casiraghi in posto e basso contro Butera Si butta indietro Il suo tiro è corto Il rimbalzo di Giusti Che prova a far correre la squadra Butera Butera Vede arrivare Dario Dragna Dario Dragna Subisce fallo Da unecetti Al suo secondo fallo Andrà in lunetta Per due tiri liberi Due tiri liberi Dario Dragna Punteggio di 66 a 55 Primo tiro libero di Dragna Assegno Dario Dragna torna a segnare Dopo il primo quarto Secondo tiro libero Assegno anche questo E meno nove per la Libertas Quando mancano sette minuti Unecetti Saccone Casiraghi Casiraghi per Leonardo Leonardo contro Giusti Prova a attaccare il ferro E arriva il fallo di Giusti Esce Casiraghi Entra il numero 13 Costanzo Leonardo Costanzo Unecetti Attacca Dario Dragna Che è costretto a fare fallo La Libertas è in bonus E saranno due tiri liberi E quindi Un altro viaggio In lunetta Gratis Per la Squadra Primo assegno Per Uno Ceschi Secondo tiro libero Assegno Attenzione Richiamo per la panchina Effettivamente Andiamo a contare i falli Sono tre Quattro Quattro Sei Sette falli In tutta la partita Per Giarre Contro Uno Due Tre Quattro Cinque Tre Sette Otto Nove Dieci Undici Dottici Quattro 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 Giusti Attacca il ferro Scarica per Dario Dragna Dario Dragna Prova la conclusione Anche questa va fuori E riparte Giarre Percentuali di tiro Mostruosamente Deficitarie Non va a segno Un tiro Che è uno Giarre D'altro canto Sta facendo la sua Onesta partita Trovando Sempre un giocatore libero Per la conclusione Come in questo caso E Leonardo Metta a segno Un'altra partita Che porta A più Quattordici Giarre Va da là Trova dentro Dario Dragna Che sbaglia Anche Da Distanza Ravvicinata Un semplice Layout Poi per fortuna Va da là Trova Un rimbalzo E due punti 71-59 Più 12 Unecesti Dentro Per Mostra E la palla Della Libertas Quando mancano 5 minuti Meno 12 Occorre Qualcosa di straordinario Da parte Della Libertas Sia in attacco Che in difesa Per poter Riprendere Questa partita Budera Budera Padalla Giusti Giusti Padalla Budera Attacca il centro Tira Torto Ultimo ferro Rimbalzo E palla Conquistata Se non si segna Sarà molto difficile Recuperare questa partita Esce Motta Rientra Cidiacono Padalla Dall'angolo Non va il suo tiro Corto Rimbalzo di Sacca Che spinge la transizione Sacca si ferma Ave per Leonardo Che è completamente solo Padalla Riesce a rubare un pallone Ave per Giusti Giusti Prova a saltare L'arbitro non fischia E c'è il canestro L'arbitro fischia Successivamente E c'è il canestro Di Pari dei Giusti Vai Pari Pari dei Giusti Sulla linea Il tiro libero 4 minuti e 33 Secondi Meno 10 Di Betas Sulla linea Sulla linea giusti, tiro libero, segno 71-62, meno 9 per la libertà quando mancano 4-25 saccone per Casiraghi tiro da 3 di Casiraghi, non va a rimbalzo prova a ripartire la libertà aspetta l'arrivo dei compagni la palla va giusti, giusti dall'angolo per Dragna Dragna esita, ridà giusti che tira la distanza e metta segno 3 punti sospensione immediata da parte della libertà punteggio a meno 6 quando mancano 4 minuti deve correre la libertà deve trovare il ritmo per poter ripensare in questi 4 minuti di riuscire questi 6 punti quando la libertà difende, corre e soprattutto corre, riesce poi sempre a trovare qualcosa che le permette di riavvicinarsi 4 minuti al termine 71-65 a favore di Giarre poc'anzi stavo dicendo della stagione sfortunata una serie di infortuni continui per circa un mese la squadra si è allenata veramente a numero ridotto adesso quando sembravano quando la squadra sembrava essersi ripresa dalla serie di infortuni questa tegola di venerdì sera questa tegola di venerdì sera del capitano André ma la casualità vuole che se da una parte si viene a perdere un giocatore Giarre che viveva un momento di difficoltà causato dagli infortuni e dall'assenza del capitano Artidiacono che aveva per motivi lavorativi abbandonato il gruppo si ritrova proprio alla vigilia del Natale con la formazione tipo ecco il suo capitano in campo che comunque se non offensivamente ma difensivamente sta facendo la differenza quattro minuti al termine 71-65 meno la libertas Leonardo Casiraghi esce dai blocchi prova ad attaccare il ferro la palla va a Oneceschi Dario Teragna prova a rubargli il pallone e fallo che porterà e lunetta Oneceschi appena la libertas prova a difendere un attimino più aggressivo ecco che subito viene punita dall'intervento degli arbitri che ci sembrano molto fiscali da una parte e meno dall'altra il conto dei falli 18-8 mi sembra evidente sbaglia il primo tiro libero Oneceschi bisogna fare taglia fuori adesso era il quarto fallo di Dario Teragna nel frattempo secondo tiro libero va a segno va da là 72-65 meno 7 libertas va da là ferma il palleggio si appoglia a Tartamella Budera dentro la palla per Tartamella in sospensione due punti di Lorenzo Tartamella 3-29 al termine meno 5 rosicchiato un altro punto fondamentale questa difesa Oneceschi prova ad andare dentro arresto dalla media rimbalzo lungo preso da Dario Teragna Fatalà riparte deve correre la libertas Budera dal centro attacca il ferro palla nell'angolo per Giusti riaperta per Fatalà 12 secondi al termine Fatalà per Giusti dalla distanza palla cortissima si ferma sul ferro riaperta per Saccone Saccone conduce la transizione dall'altra parte era importante il tiro l'attacco da Libertas per avvicinarci a due possessi rimbalzamento dall'altro angolo Saccone attacca il ferro lo scarico per Arcidiagono dalla mattonella permette il tiro da due punti e da una parte si sbaglia dall'altra parte si trova la soluzione 74-67 meno 7 2 minuti e 21 il tempo corre la Libertas deve assolutamente trovare punti veloci e semplici Budera da 3 e fa segno Carlo Budera meno 4 74-70 bisogna difendere due possessi due possessi di differenza bisogna difendere Saccone per Arcidiagono attacca il ferro Arcidiagono stoppato da Martamella conduce la transizione guardi dei giusti guardi dei giusti vado da Dario Dragna dall'angolo importante lungo ma rimbalzo e il fallo involontario cadendo fuori equilibrio di di Carlo Budera che costerà altri due tiri liberi peccata la conclusione dall'angolo percentuali di tiro molto basse per la Libertas in questa partita tanti tiri sbagliati dall'angolo appoggio al tabellone primo tiro libero per Saccone non va meno 4 1 minuto e 47 la partita non è terminata occorre innanzitutto prendere segnare rapidamente torna va da là passa sui blocchi cerca qualcuno trova Budera che prova a riaprire la distanza non va ma il rimbalzo è di Dragna che riave per Tartanella un'altra palla sul ferro 1 minuto e 22 al termine altre due conclusioni da tre errate comunque tutte queste conclusioni da tre mancate sono anche lo specchio dei soli due falli commetti in questo quarto e dei soli due cinque sei set dei soli dieci falli commessi in tutta la partita dalla parte di Giarre la mancanza di Dario Andrè che è un uomo che è dentro l'aria si fa rispettare è importante Saccone quasi perde la palla sulla pressione di Fatalà fa correre il tempo un minuto al termine viene fischiato il trasporto sul palleggio della pressione di Fatalà cinque punti sono sempre due possessi ma bisogna andare a realizzare magari fermando il tempo dobbiamo accelerare Giusti Giusti attacca il ferro subisce fallo e segna importante pari dei giusti che andrà in lunetta per un tiro libero 75-72 un tiro libero importante per pari dei giusti avevo appena finito di dire l'importanza di attaccare il ferro Giusti in lunetta va a segno il tiro libero meno due 58 secondi adesso Giarra ha un po' di pressione perché deve segnare buona difesa di Fatalà Dragna su Guneceschi la palla va a Casiraghi cambio Dario Dragna prova a fermare il tiro corto il rimbalzo e fallo dato al rimbalzo a Dario Dragna fallo dato al rimbalzo a Dario Dragna assurdo assurdo sul rimbalzo quinto fallo di Dario Dragna quinto fallo di Dario Dragna al rimbalzo assurdo fallo due tiri liberi e chiaramente vengono in soccorso gli arbitri con Saccone che andrà in lunetta per due tiri liberi sul punteggio di più due per Giarra primo tiro libero a segno per Saccone tre punti di distanza secondo tiro libero si arrampica esce Tartamella prende il rimbalzo 35 secondi ci sono due possesti fa da là fa da là va da lato di Tagliareni prova a attaccare il ferro Tagliareni attacca il ferro trova due punti time out con due punti di Tagliareni ci poteva stare anche il fallo su Tagliareni meno uno 20 secondi al termine Giarra può fare morire la partita con la palla in mano può fare morire la partita con la palla in mano ma sicuramente la libertà non lo permetterà immagino che verrà commesso un fallo su gli avversari quando mancheranno 6-7 secondi per poi organizzare l'attacco finale c'è un punto di differenza quindi con due tiri liberi si rimarrebbe a un possesso e la possibilità di riagganciare gli avversari certo il quinto fallo di Dario Dragna al rimbalzo difensivo ha dato una grande mano d'aiuto alla squadra di Giarra che ha potuto portarsi sul più uno poi dall'altra parte Tagliareni sul più tre poi Tagliareni dall'altra parte accorciato a un punto questi sono 20 secondi la partita non è assolutamente terminata la libertà si ha ricuscito uno svantaggio di ben 13 punti in questo quarto ben 13 punti su questo quarto rimessa da parte di Giarra nella propria metà campo difensiva Leonardo effettua la rimessa cerca Casiraghi la palla va da Arcidiacono e viene fatto subito fallo da Carlo Butera per mandare Arcidiacono in lunetta e poter poi provare a giocarsi l'ultima rimessa vediamo il capitano tornato con una licenza per questa partita che finora è stato decisivo se lo sarà dalla linea della carità con due tiri liberi primo tiro per Arcidiacono e va a segno più due secondo tiro per Arcidiacono cortissimo sta in rimbalzo fuori la palla è della Libertas due punti sospensione 16 secondi 16 secondi al termine Libertas che ha riagguantato la partita e adesso ha la rimessa per poter pareggiare o superare a 16 secondi dal termine vediamo che difesa mettere in campo Giarre immagina difesa a uomo dall'altra parte fondamentale mettere la palla in campo non perdere il pallone e attaccare il ferro Giarre ha la possibilità di spendere ancora un fallo prima del bonus questo vi dice tanto e vediamo come si concluderà questa partita a 16 secondi dal termine Libertas che torna in campo con Giusti Butera Tagliareni Tartamella e Fadalla dall'altra parte Leonardi Saccone Casiraghi Motta e Arcidiavano vediamo quale sarà la scelta di Coci Ferrara se andare al ferro per due punti o se se andare al ferro per due punti o se andare per un tiro da tre per vincere la partita la palla di Giusti che tira subito da tre e lo mette e lo mette 12 secondi a termine occhio più uno per la Libertas Saccone provo ad andare dentro fa dalla fronta fa sbaglia il ribasso di Tagliareni che ruba la palla incredibile la riperta si vince il punto con il suo grande talento Pali dei Giusti con una bomba all'ultimo secondo vince la partita straordinario 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 dopo una partita dove si sono sbagliati l'impossibile Pali dei Giusti mette la bomba decisiva per la vittoria incredibile incredibile finale di partita incredibile incredibile il talento di Pali dei Giusti il talento di Pali dei Giusti mostruoso mostruoso voglio solo darvi un dato che ce l'ho qua davanti nel quarto periodo Pali dei Giusti ha segnato 3 6 8 9 12 punti 12 punti gli ultimi 5 fondamentali e una vittoria mostruosa della riperta incredibile incredibile spettacolare spettacolare la riperta espugna giarre vince nonostante l'assenza al suo capitano rimontando 11 punti e chiude la settimana chiude quest'anno con una vittoria importante una vittoria importante una vittoria importante la libertas torna a casa con il punteggio 77-78 e io ringrazio tutti ringrazio tutti voglio fare gli auguri un buon Natale sarà un felice Natale per la libertas nonostante l'infortuna del capitano Andrei nonostante l'infortuna del capitano Andrei nonostante tutte le sfortune che sono succedute in questi anni alla libertas nonostante tutto la libertas espugna con un tiro all'ultimo secondo di pari dei giusti ce lo rivedremo e ce lo sogneremo tutta la notte tutta la notte pari dei giusti ora c'è chiaramente per Giarre la beffa dov'è che state siate andreggi per l'ultimo periodo c'è un po' di nervosismo che ci sta allora ragazzi vi saluto a tutti grazie qua da Giarre è stata una partita eccozionante e voglio dire che la fortuna aiuta gli audaci e noi avremo bisogno di questo grazie a tutti e Buon Natale